La crisi del commercio, l'accesso al credito, la viabilità sono questi i problemi maggiormente sentiti dai commercianti brindisini che sino ad oggi hanno rimproverato all'amministrazione comunale di non aver ascoltato sempre i loro bisogni, la loro voce. Oggi i candidati alla poltrona di primo cittadino, quali Mimo Consales per il centro-sinistra e Giovanni Brigante per sviluppo e lavoro e la Puglia per vendola, prima l'uno e poi l'altro hanno voluto incontrare i rappresentanti di questa categoria in questo momento così in difficoltà. I problemi sottoposti ad entrambi i candidati sono stati gli stessi, ovviamente le soluzioni proposte dai due sono diverse. Un esempio per tutti, a proposito della chiusura dei corsi e della viabilità, Consales parla di riaprire solo Consumberto, Brigante invece aprirebbe quella che ora, l'isola pedonale, ossia tutti e tre i corsi. Strategie che entrambi vorrebbero adottare sin da subito se fosse dato loro l'opportunità di governare la città, come ci conferma il candidato Consales. Ci sono interventi a medio e lungo termine che vanno programmati e non dobbiamo avere come amministrazione comunale le associazioni e i commercianti come controparte, cioè contro qualcosa. Noi li avremo dalla nostra parte nel disegnare il commercio del futuro. Poi ci sono interventi a brevissimo termine che noi dal 7 maggio in poi, una volta che saremo lì a guidare la città dall'amministrazione comunale, attueremo nel giro di pochissimi giorni. Per Brigante poi c'è comunque la necessità di intervenire subito anche su altri aspetti della crisi, come l'accesso ai crediti. In una crisi come questa, chi è che non rasenta il rosso o va nel rosso momentaneamente? Quindi un appello grande ai cofidi e soprattutto al prefetto che solleciti le banche ad avere una... se dobbiamo rilanciare l'economia di questo Paese, allora questo sì che potrebbe essere qualcosa che un'amministrazione deve fare, sollecitare la fiducia che le banche devono riporre nei confronti degli imprenditori.